Musica Si definiscono i contorni della triste vicenda che ieri ha visto lo sfratto di una donna di 90 anni e del figlio. Il comune di Sondrio, nessun riscontro alle nostre proposte d'aiuto, ma la porta è sempre aperta. Dopo un anno di chiusura per ristrutturazione e riaperto stamattina alle 8, il ponte di Traona possono transitare i veicoli fino a 35 quintali. L'ok al traffico pesante dopo la prova di carico in agenda il 4 agosto. Esperienza unica per il maestro Lorenzo Passerini, direttore d'orchestra morbegnese. Applausi a scena aperta, quelli raccolti a Sydney tra sabato e domenica sarà di scena a Morbegno e Grosio. Buonasera e ben trovati a tutti i telespettatori di Unica Sondrio. Ad è stato sconcerto indignazione la triste storia di Paolina Bordoni, novantenne di Sondrio, sfrattata dal bilocale nel quale viveva da 70 anni. Oggi a prendere la parola sulla delicata vicenda è il comune di Sondrio. Sentiamo. In quest'ultimo anno non sono mancati gli sforzi del comune di Sondrio per aiutare la novantenne Paolina Bordoni, sfrattata ieri con il figlio Giuliano dal bilocale in cui ha vissuto per 70 anni. Con il passare delle ore si ricompone il mosaico che oggi riproduce più chiaramente le sfumature di una storia giustamente sconcertante, vista l'età avanzata della protagonista, ma al contempo complessa, dove non sempre primeggia la ragione. Gli amministratori di Sondrio, infatti venuti a conoscenza della situazione di emergenza, si sono subito attivati con i servizi sociali per supportare l'anziana, che economicamente non ha diritto all'assegnazione di una casa popolare, nella ricerca di un nuovo alloggio, senza però purtroppo riscontrare l'indispensabile collaborazione da parte della novantenne del figlio per lasciare l'appartamento che dovevano abbandonare 18 mesi fa, dopo aver dato la propria disponibilità a farlo davanti ad un giudice. Devo dire che francamente sono state messe in atto tutte le possibilità di aiuto verso queste persone e questa famiglia. Purtroppo, se posso dire, non è stato recepito l'aiuto che si voleva dare da parte dei soggetti stessi. Addirittura, possiamo dire che erano state trovate delle soluzioni abitative dove potessero vivere tranquillamente e però purtroppo non c'è stata un'adeguata collaborazione per la risoluzione di questo problema. Peraltro, possiamo anche dire che non c'erano gli estremi, diciamo dal punto di vista economico, per un intervento, per cui purtroppo una situazione incagliata ma quello che posso assolutamente testimoniare, confermare è che i servizi sociali, diciamo tutti gli attori coinvolti nel tentativo di risolvere questa situazione si sono dati molto da fare e hanno cercato di fare il possibile anche l'impossibile. Quattro gli sfratti esecutivi rimandati dai proprietari che avevano necessità dei locali per consentire alla coppia di trovare una sistemazione, ma con il passare delle settimane, dei mesi, degli anni sulla comprensione e l'umanità manifestate dai locatori del bilocale ha prevalso l'indignazione per il sospetto di una presa in giro che alla fine ha portato allo sfratto. Il fatto che ci sia in mezzo una signora così anziana desta sconcerto, sconforto e preoccupazione ecco, noi non ci siamo mai tirati indietro rispetto a quelle che erano le nostre responsabilità le nostre possibilità e siamo comunque sempre disponibili a cercare di trovare una soluzione. La cronaca attimi di grande paura nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 16, lungo la statale 38 all'altezza della località Rogna nel comune di Poggi Ridenti. Per cause al vaglio degli agenti della polizia stradale di Sondrio, in prossimità di una semicurva, una Jeep Wrangler e un camion si sono scontrati ad avere l'appeggio un uomo di 60 anni al volante del fuoristrada che con accanto una donna di 57 anni procedeva in direzione di Tirano. Inmediata la richiesta di aiuto al 112 da parte degli altri automobilisti in viaggio, sul posto è intervenuto il personale sanitario che ha soccorso il conducente ferito trasportato in ambulanza all'ospedale di Sondrio. Le sue condizioni, dopo accertamenti più accurati, si sono rivelate fortunatamente meno gravi rispetto a quanto ha preso in un primo momento. Per evitare pesanti contraccolpi alla viabilità, il traffico proveniente da Tirano è stato deviato verso Piateda, mentre dopo alcune decine di minuti incolonnati, i veicoli diretti verso l'Alta Valle hanno percorso a senso unico un tratto di statale liberato dopo la rimozione di un'auto rimasta coinvolta marginalmente nell'incidente. Sconto tra un'auto e un bus turistico, questa mattina poco dopo le 8 alle porte di Castello dell'Acqua. La collisione tra i due mezzi è avvenuta all'innesto, tra le vie cavallari e al piano, punto nel quale sono già accaduti in passato altri incidenti. ferito in modo non grave il conducente dell'auto, un uomo di 40 anni sul posto è intervenuto all'eliambulanza con i vigili del fuoco e la polizia stradale di Sondrio. L'automobilista è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Sondrio. Riaperto questa mattina alle 8, il ponte sull'Adda di Traona, l'opera pubblica dopo un anno di chiusura per lavori di ristrutturazione nuovamente transitabile con alcune limitazioni per i mezzi pesanti. Nel frattempo gettate le basi per la costruzione del nuovo ponte. 30 luglio, ore 8, il ponte sull'Adda di Traona, dopo un anno di chiusura, è tornato ad essere percorribile. Ripresa la circolazione dei mezzi leggeri fino a 35 quintali di portata, spiega Palazzo Muzio. I lavori di manutenzione sono finalmente terminati. Le tempistiche, annunciate già lo scorso mese di aprile in un incontro con i sindaci dei comuni interessati, sottolinea il Presidente della provincia di Sondrio e di Omoretti, sono state rispettate. L'apertura al traffico pesante e subordinata agli esiti del collaudo previsto per la settimana prossima. Nell'ordinanza emessa dal settore viabilità della provincia di Sondrio si precisa infatti che il 4 agosto, dalle 8 fino al termine delle prove di carico, il ponte sarà chiuso al transito di veicoli e pedoni. Poi, superato questo test, l'apertura definitiva. Il Presidente della provincia Moretti, già lo scorso mese di aprile, aveva assicurato che dopo aver risolto le problematiche tecniche alle opere di fondazione che avevano causato i ritardi, i lavori si sarebbero conclusi entro luglio. Un cantiere complesso si è provveduto in una prima fase al sollevamento dell'impalcato, che aveva subito un cedimento a causa di problemi alle fondazioni, poi alla formazione dei nuovi appoggi, al rinforzo esterno delle travi e la ricollocazione dei sottoservizi ospitati sul ponte. Restano alcune limitazioni, quelle di sagoma causa la ridotta dimensionale carreggiata, che imporranno il senso unico alternato per i mezzi pesanti. I disagi saranno ridotti grazie all'installazione di semafori intelligenti che fanno scattare il rosso solo al passaggio dei mezzi più ingombranti. Il ponte, nato negli anni Sessanta, ha dunque riaperto i battenti, ma già si guarda alla realizzazione di quello nuovo, che sorgerà più a ovest rispetto all'attuale. Un'opera da 6 milioni di euro, 5 dei quali messi a disposizione da Regione Lombardia. L'altro milione arriverà da Palazzo Muzio, impegno che verrà inserito nel prossimo piano per repubbliche in approvazione dopo l'estate. Entro la fine del mese di agosto verrà approvato lo studio di fattibilità predisposto da ANAS, mentre in fase di definizione il protocollo d'intesa per la progettazione, prima definitiva, poi esecutiva. La pagina della sanità, Sondrio, seconda in Lombardia, per la quota di popolazione target vaccinata con la seconda dose. La percentuale comunicata oggi pomeriggio dalla Regione è pari al 79,17% a guidare la classifica, l'ECCO con l'81,36%. E per quanto riguarda la diffusione del contagio, sono sei nuovi positivi e quattro i guariti nelle ultime 24 ore in provincia di Sondrio, secondo il report realizzato da ATS della Montagna. Momento magico per il direttore d'orchestra morbegnese Lorenzo Passerini ha raccolto applausi a scena aperta a Sydney ed ora è rientrato in Valtellina per due eventi speciali in agenda tra sabato e domenica a Morbegno e a Grosio. Vediamo. Applausi e standing ovation, esperienza indimenticabile quella vissuta nella lontana Australia dal maestro Lorenzo Passerini, direttore d'orchestra morbegnese che può già vantare un'importante carriera internazionale. In platea c'erano anche tanti esponenti della comunità valterinese d'Australia. Sono appena rientrato dall'Australia, dalla Sydney Opera House, dove ho diretto l'Aida di Giuseppe Verdi. Purtroppo per il Covid sono riuscito a fare soltanto una delle otto recite programmate, però è stato un grande successo comunque e tornerò in Australia nel mese d'ottobre sempre con l'Aida, ma questa volta nella città di Brisbane e invece per la Bohème a gennaio. Rientrato in Valtellina, questo fine settimana il maestro Lorenzo Passerini sarà di scena a Morbegno e Grosio con due appuntamenti speciali. Questo fine settimana c'è una doppia inaugurazione. C'è l'inaugurazione della stagione estiva dell'orchestra Antonio Vivaldi, sabato, quindi domani sera, a Palazzo Malacrida di Morbegno, gioiello della città del Bitto. Come forse qualcuno di voi sa, i cui restauri sono stati finanziati da Balzbecki. Balzbecki non è solo un mecenate, ma è anche un musicista, è un flautista e domani sera suonerà proprio come solista con l'orchestra Antonio Vivaldi. Mentre domenica saremo in quel di Grosio all'interno della Mondadizza Music Week presieduta dal maestro Enrico Ciccarelli che per la prima volta in questa terza edizione vede appunto la presenza dell'orchestra e siamo felici che sia proprio l'orchestra Vivaldi. Quindi domani sera a Palazzo Malacrida alle ore 18 e invece domenica sera alle 20.30 nel cortile della Villa Venosta di Grosio. Siglato l'accordo tra l'ufficio scolastico territoriale di Sondrio e la nuova Sondrio Calcio per avvicinare sempre di più i giovani alla pratica sportiva e allo stesso tempo proporre iniziative educative e formative. Da lunedì 2 agosto si scende in campo lezione speciale con un preparatore dell'Atalanta. Il calcio come scuola di vita è con queste premesse che nasce l'accordo siglato dall'ufficio scolastico territoriale con la nuova Sondrio Calcio un protocollo d'intesa dalla durata di un anno che spazia dalla pratica sportiva all'educazione fino alla comunicazione. Verranno anche proposti momenti di approfondimento gettate le basi per una collaborazione con l'Università l'Umsa a Teneo guidato dal rettore Francesco Bonini. Noi siamo soddisfatti della richiesta che è arrivata dalla nuova Sondrio Calcio di sottoscrivere un protocollo che metta al centro lo sport. Lo sport per noi è fondamentale. A scuola si deve fare sport, se ne deve fare di più. Io vedo anche bene l'idea di introdurre l'insegnante di educazione fisica alla scuola primaria. Lo sport è bello, è interessante, è un fattore di socializzazione fa bene alla salute, però è anche il veicolo di valori di convivenza sociale e civile che sono oggi più che mai importanti. Da lunedì ci sarà anche un'esperienza davvero interessante per gli alunni? Lunedì partiremo con un breve corso di accostamento al mondo del calcio durerà cinque giorni, si terrà presso il campo sportivo del Sondrio Calcio. Un docente che arriva dal mondo Atalanta? Sì, è un ragazzo che collabora come preparatore atletico all'Atalanta. Credo davvero che sia il presupposto per importanti azioni future. Questo accordo col provveditore, che ringrazio, è per noi fondamentale. Oltre a un discorso sportivo, puntiamo tanto sul discorso educativo e questo per noi è fondamentale, perché i ragazzi devono, prima di essere dei bravi calciatori, dei bravi cittadini. Poi guardiamo anche la prima squadra, ad agosto ci sarà un pre-ritiro, giusto, alla Castellina? Già adesso qualche allenamentino lo stiamo facendo, ma ufficialmente partiremo il 19 agosto. Ci hanno dato un campionato molto impegnativo, che è la promozione. E sabato 31 luglio allo stadio in agenda il secondo Open Day, gratuito organizzato dalla nuova Sondio Calcio. Ben 50 autostoriche e moderne parteciperanno questo weekend alla prima edizione dell'evento sportivo, primo trofeo Valtellina Classic, una gara iscritta al calendario AC Sport, riservato alle autostoriche e moderne e a ruote nella storia. Un raduno sportivo culturale che prevede un percorso lungo i territori valtellinesi, interessati dai giochi olimpici del 2026. La gara parte sabato 31 luglio da piazza Garibaldi a Sondrio. Domenica 1 agosto si aggiungeranno anche una trentina di autostoriche che percorreranno le stesse strade dei professionisti. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Come sempre vi ricordo che potete seguirci anche sui social. Grazie di cuore per essere stati con noi. A tutti voi buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.